Mi trovo all'interno delle Petronas Tower, in questo momento sto visitando un luogo che è sotto fortissima sorveglianza, come potete vedere qui ci sono dei pass che assomigliano a quelli dell'aeroporto, sono appena passato da lì, vedete anche il personale burbero in divisa che non ha un aspetto certamente rassicurante, all'interno troviamo un piccolo shop dove vendono dei souvenir che rappresentano le torri, qui abbiamo tutto il settore delle cartoline, qui abbiamo delle buste, un quadernetto, delle rappresentazioni e poi il tour può continuare ancora. Ok ragazzi, chiudo qua, andrò a farmi allora questa visita che ho già incominciato e ci sentiamo poi alla prossima, non so quanto possa essere di interesse a questo posto, io a dire la verità lo sto visitando perché è ben servito dall'aria condizionata, fuori ci sono i classici 40 gradi all'ombra. Salve, un saluto a tutti e ci sentiamo alla prossima.